Si è concluso domenica 17 luglio il torneo di calcio organizzato a Teggiano in memoria di Daniel Baruzza e Vincenzo Delia, i due giovani strappati alla vita tragicamente due anni fa a Prato Perillo di Teggiano in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Teggiano-Polla. Due ragazzi amati da tutti e due amanti del calcio e dello sport ed è proprio nel nome di quella passione che due loro amici Carmine Vertuccio e Paolo Delia hanno organizzato il secondo torneo di calcio 5 in loro memoria. Il torneo che ha preso il via lo scorso 20 giugno ha visto sfidarsi 16 squadre divise in 4 gironi che si sono affrontate sul campo di calcio, tanti gli amici, parenti e i conoscenti dei due ragazzi che hanno preso parte al torneo, per ricordare in un modo che a loro sarebbe sicuramente piaciuto i due giovani tegianesi. La finale del torneo che si è svolto sul campetto di calcio della palestra Salus a Teggiano è stata disputata domenica sera e ha visto sfidarsi e giocare, in nome dello sport e del ricordo dei due ragazzi, la squadra D e V contro Gruppo Lamura. Ad avere la meglio aggiudicandosi la vittoria del torneo proprio la D e V composta dagli amici di Daniele e Vincenzo che ha battuto la squadra avversaria con il punteggio di 3 a 1. Grazie a tutti.